Oggi Canichetti ospita il segretario nazionale del club ambassador della Svizzera, nel contesto di quale evento? Allora, niente, abbiamo sostanzialmente deciso un po' di valorizzare quelli che sono i nostri luoghi, la nostra città e diciamo prendendo, quindi intercendo alcuni rapporti anche a livello nazionale e internazionale con questa associazione che è una associazione di prestigio, molto prestigiosa a livello internazionale, che ci siamo messi in contatto, abbiamo preso questo contatto tramite internet e quindi oggi abbiamo l'onore di avere la visita del segretario internazionale. Questa è una visita, è un ospite gradito che ci permette di far rilevare che la città di Canichetti non è solo cosa negativa ma è anche positiva, una città che lavora, una città che è in movimento e che questa tipologia di rapporti ci porta in una dimensione un po' extracomunale. Le abbiamo ospite e abbiamo constatato la sua eccellente persona, molto cordiale, che qui abbiamo l'onore di presentare alla nostra città. Si dice che voi svizzeri siete precisi, puntuali, per Canichetti invece qual è il giudizio che dà per quel poco che ha potuto fin qui vedere? Onestamente devo dire che è più pulito che la Svizzera, non si trova carte, non si vede niente, è un paese molto bello e con la gente molto accogliente. Quanto rimarrà nella nostra città? Sono qua per due giorni, anzi due notti, con Paolo che mi ha invitato per vedere la regione qui che è molto bella. Quindi un modo per vedere la nostra città e ritornare magari dopo? Sì, senz'altro, sono la seconda volta già in Sicilia, ho fatto tre anni fa un giro con la moto e mi ha molto piaciuto.